Maestro Cacciato, per circuiti sonori di cui lei è il direttore, motivo di orgoglio e di soddisfazione questo successo di Giada? Sì, io insieme al maestro Michele siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto da Giada, noi cerchiamo sempre di tirare il massimo dai nostri allievi e dai nostri artisti, quindi sicuramente dando le basi e tutti gli strumenti idonei per chi ha un talento già dentro come Giada, è una grande soddisfazione perché vuol dire che abbiamo operato bene e abbiamo operato al meglio per ciò che poteva garantire questi risultati che comunque vengono sempre dagli artisti. Maestro, sulle prime, lei che è a contatto, c'è stato maggiormente con Giada, quando ha scoperto che c'era qualcosa che poteva davvero esaltare? Da subito, dalla prima nota che ha emesso Giada si capisce subito il potenziale, la potenza che ha in questa voce, in questo corpo così piccolo che c'è, tutti questi colori che sprigiona quando attacca. E quindi da subito, me ne sono reso conto, da subito ho avuto modo di godere della bellezza di questa voce incantevole. Mi fa disperare tanto, ma perché proprio questo suo temperamento, questo suo vortice, ce l'ha dentro sempre e ce l'ha soprattutto quando canta.